buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento dell'arceria ai tempi della quarantena oggi non mostriamo attrezzature particolari utilizzate dagli arcieri dell'antichità oggi parlerò di una metodica di tiro molto particolare utilizzata in antichità dalla Francia e nell'era moderna da alcune tribù africane questa metodica di tiro viene presentata per la prima volta o perlomeno sia per la prima volta alla prova della sua esistenza all'interno di un libro anonimo, l'Art d'Arcerie in un capitolo ben preciso viene specificato una maniera per mantenere la corda molto particolare se mentre tutti conosciamo la presa mediterranea a tre dita oppure quella chiamata fiamminga a due dita la quale impone di mantenere la mano perfettamente verticale perpendicolare alla corda dell'arco nella metodica di questo libro invece la mano viene mantenuta obliqua il motivo è da ricercarsi soprattutto nella facilità di utilizzo di questo tipo di presa infatti notiamo durante la prima fase di apprendimento del tiro con l'arco che gli errori più comuni sono quelli di far fuoriuscire la freccia dalla sua sede mano o finestra che sia con questa metodica invece riusciamo a trazionare la corda con minor problema infatti questa metodica è talmente tanto comoda da permettere di caricare l'arco anche al contrario il motivo è molto semplice l'angolo dell'indice va imbattuta con la parte bassa della cocca della freccia premendo la freccia sulla corda e quindi anche sull'arco in questo caso durante la fase di trazione la freccia sarà in possibilità da uscire anche con movimenti molto repentini questo sistema non è presente solamente nella Francia medievale ma anche in alcune tribù dell'Africa quali per esempio gli Aza nella Tanzania spesso si vedono queste tribù di cacciatori raccoglitori utilizzare questa posizione ruotata per tendere l'arco infatti durante le loro battute di caccia la posizione non è mai dritta ma sempre storta un'ipotesi in più è proprio il tipo di caccia che vanno ad utilizzare le popolazioni tribali essendo una caccia di inseguimento loro spesso sono costretti ad inseguire la preda per chilometri e chilometri e siccome spesso tendono a tirare anche in movimento avere una freccia non stabile significa mancare il bersaglio e quindi anche non portare il cibo a casa queste ipotesi sono le uniche ad avvalorare il sistema di tiro che indica l'autore perché non sappiamo se lui abbia scritto in maniera criptica ma abbiamo comunque delle congruenze a livello mondiale a livello dell'arceria mondiale in più non credo che l'autore abbia scritto qualcosa di sbagliato visto che in passato saper tirare poteva fare la differenza tra la vita e la morte ma la cosa più particolare è che questo ci fa capire quanto le culture possono essere vicine a discapito della distanza e del tempo sia come strumenti usati sia come consapevolezza del corpo e credo che questo racchiuda molto bene l'essenza arceristica ma soprattutto l'essenza della vita e con quest'ultima frase figa voglio chiudere il video qua vi chiedo di commentare, vi chiedo di condividere, vi chiedo di discutere e soprattutto di continuare a seguirmi in questi piccoli video a cui mi sto dedicando in questo periodo un grazie e ciao!